Fiora Locchiello nasce a Baranzate, il comune a maggior percentuale straniera d'Italia, nel 2014 con l'intento di dare lavoro alle donne del quartiere che avessero già avuto esperienze sartoriali nei loro paesi di origine. Quindi l'intento è quello di dare lavoro alle donne del quartiere, attualmente però impieghiamo oltre alle donne anche agli uomini. L'idea è che l'integrazione e l'unione delle diversità crea dei prodotti belli e unici, quindi la nostra linea che presentiamo stasera è un mix tra tutte le culture di provenienza dei nostri sarti ma anche il gusto occidentale. Infatti l'ispirazione è quell'anni 50, quindi ispirazione vintage e c'è un mix tra le due anime che sono le due anime della sartoria.